E dalla parte simile anche alla 2box challenge Anche se alla fine quasi Possono fare anche fino a un massimo di 4 2box challenge che è anche quella Abbastanza randomica come cosa Tingo 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 Niente male not bad Not bad assolutamente anzi Buono buono ovviamente non mi aspettavo La reagan mark 3 o la reagan chiaramente Questo cosa ci fa lo zombie Totalmente in aria questo Sta facendo un sonnellino Guardalo come è messo in che posizione Attiviamo sto coso non se ne parla più Così si muore male sal e siamo felici E si perde un quick revive Vediamo un po' dove ce lo mette Qua il coso Oh eh si dall'altra parte del mondo Zio ma va bene Come minimo in prima stanza Allora no dai Abbastanza raggiungibile non mi dire che fu Ok si 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 Guardali guardali Come muoiono male guardalo 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 Ehi zombie a cambio round Cosa ci fanno qui Ehi la ehi la Ciao zio com'è T'ha a posto Allora questo via Ho già fitto i colpi del ppsh Attenzione Devo stare attento anche alla mia incolumità Comunque oltre all'incomunità Del modulo qua Lunare Quello che è Perché sal Eh si vabbè zio però Eh devo fare il colpetto No Mi colpiscono dietro Mi fanno secco proprio Sti motori non li devono mettere dove c'è anche il fuoco Perché se no è veramente un casino Allora prendile e scappa Di qua Eh si pure in faccia mi è esploso Ti fa anche danno quando Si va bene Calma sal calma Stai tranquillo Stai tranquillo La cassa tanto non la puoi più fare Quindi scialla E andiamo di qua Chi spara qua Cioè Proiettili vacanti in aria Vabbè Dingo Dingo Eh mandingo Insomma Eh mi è andata bene Mi è andata bene Perché non mi lamento Anche perché mi sono uscite 4 castle Che È una Oddio per un attimo ho visto tutto grigio Ma che è qua Comunque sta mappa la devono un po' ottimizzare meglio Perché ci sono cose stranissime che accadono E socialmente non capisco Perché le fanno accadere Ste robe Mi è uscito l'altro pezzo del modulo Ma noi non rischiamo Per andarla a prendere E visto che i punti comunque Ok Qui veramente sarà Un casino di stare attento Perché C'è un casino Mi spiego meglio perché Non avete capito Devo stare attentissimo Perché Non ho il jugernog È un bel casino quindi È finito tra l'altro Anche i colpi dello scudo Scudo che comunque Poteva essere utile Carpentiere sciallissimo L'andiamo Oddio ho rischiato tantissimo qua Carpentiere sciallissimo Che andiamo a prendere Perché Comunque Ferma un po' gli zombie Anche se per poco Però li ferma Sto un po' aspettando Di avere un bel gruppetto Per andarmene di là Col ponte Oh grandissime munizioni Andiamo usiamo il nostro PPSH Comunque i moduli Ecco Proposto i moduli Deposito logistico Quindi È l'ultimo Sì Perfetto Deposito logistico È qua E dobbiamo fare i moduli A più basso round possibile Perché Dal draghetto Ci vorrei andare Visto che comunque Sennò non posso potenziare Armi Il che È essenziale Ok Vediamo un po' dove ce lo tira No 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 Va bene È fattibile Fattibile Dov'è? Qui la corrente Sì perfetto Perfectly Guarda quanti ce n'è Magari se Se mi dai anche munizioni Zio Cioè siamo a posto Perché È quello che mi manca No 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 Cavolo dico No no Ero rimasto leggermente indietro Munizioni già ce l'ho Munizioni ce l'ho Ah il Bowie No dai Non compro nemmeno il Bowie Anche perché La challenge Impone di utilizzare queste armi Quindi il Bowie È praticamente un'arma Tutti gli effetti E che sarebbe poi Troppo facile fare Quindi Bowie Non si può usare A meno che non vi esce Dalla cassa Però non credo sia possibile Quindi a posto Che fai zombie Devi colpire il modulo Non me Ok tra l'altro il modulo Non so se è tipo Liva shot Oppure Eh sì però zio Se ogni volta Draghetto Ti devi mettere sempre Quando ci sono io Col modulo A rompere i cabasisi Fai Precare pure i colpi Allora qui devo aspettare Che finisce il modulo Perché se no Posso prendere Il pezzo Olè Perfetto Pezzo preso Pezzo preso Quindi due su tre Pezzi presi Per accedere Al pacca punch Come sapete bene Oh pure Ma io quasi quasi Lo farei subito Fabbrica di carri Quindi alla double tap Ci andiamo subito Poi dopo Ci facciamo anche Una gabble Che abbiamo visto Che comunque abbiamo I big punti Proprio Double tap Qui Liquid divinum Così sempre Molto utili Cos'era quel rumore Ho sentito No ho sentito un coso Mi sa che c'è il gigante Quello che ti spara I cosi Ah dove l'ha tirato Lo zio Oh Ah ok Però è dove c'è Micchia Insomma Vabbè Ci arriviamo Ci arriviamo Dove c'è Il giardino del jugernog Dove c'è Il coso Dai corri Zio Ok Fortunatamente Ancora non c'è nessuno Perché se no Gli tirano una bella Un bel colpo di scudo Il jugger Non si può prendere Ciao jugernog È stato un piacere Olè Tutti via Vediamo un po' Se ne arrivano altri E credo proprio di sì Purtroppo Uno Dai venite Venite Vai Faccio tutti secchi No però zio Non mi devi colpire a me Madonna No 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 Non hai capito niente No no zio Non hai capito niente Ho figo No 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 Oh Oh ma quanti ce ne è Ma tutti ora arrivano Che muoio male Se no così Eh no ragazzi Muoio male Eh sì Tutti i colpetti No no L'ho fregato No invece sì Invece sì Grandissimo Oh ragazzi Ho rischiato un casino Non so se avete visto eh Ho rischiato veramente un casino Qua di andare a terra Meno male che non ci sono andato Ok ok Calma Sal calma Adesso si può andare a potenziare È molto easy Che C'è proprio si va No I cosi del circuito Le devo mettere lì Aspetta però Vorrei che ci siano troppi zombie in giro Sì ancora siamo nel round eh No no ancora siamo nel round Non proprio Safe mod Sal Safe mod attivata Attenzione No vabbè A parte le cazzate Aspettiamo un altro po' Perché voglio essere sicuri Che gli zombie finiscano In modo tale Di andarci molto tranquillamente Laggiù Ma ce ne sono solamente due Quindi va bene così Andiamo a mettere i pezzetti qua Come si chiamano? Controllo rete drago Ovvero Praticamente Cavalcare i draghi Sì proprio Detto in modo abbastanza ambiguo Lo scudo Guarda che già che ci siamo Ce lo facciamo distruggere Riprendere nuovo Così almeno Siamo tranquilli Dove sei? Non ci sono zombie Vabbè E di qua è chiuso Allora andiamo subito A prendere il draghetto C'è uno zombie qua? Dai facciamo distruggere Dai zio E faccio con calma Perché sapete No tre manate E qua si fa A terra Proprio scialli Se me ne ritrovo Ok perfetto Non mi ha tirato neanche una manata GG Round 9 Round 9 E comunque Ragazzi vi ricordo che questa è la draft challenge Ovvero pescare dei numeri a caso E in base a quei numeri Scegliere quali perk prendere Eh si è buono Io prendevo lo scudo di là Invece lo scudo si prende qua Sal Buongiorno Ovvero draft challenge Quali perk prendere in base ai numeri Uno usciva il jug Due il quick revive Tre double tap Quattro speed cola Invece numero di casse da una a quattro Quindi se usciva uno Una cassa Due due casse E così via Invece invece per le Invece sì invece Invece non lo dico più Invece per le gabble gam Eh le gabble gam mega In base a quello che ci dà Dottor Monti Io avevo da parte solamente Due liquid divinum E due liquid divinum Usato Di certo non andavo a spendere soldi Per comprarne altri E questo che sia chiaro Io non Non sono il tipo che Paga per insomma Fare spacchettamenti E cose varie Insomma Almeno per adesso Spero di non esserlo mai Insomma Ok vabbè E a parte questi discorsi Eh vediamo un po' Il draghetto qua che arrivi Perfetto Bravissimo draghetto Cavalchiamo i draghi Olè E andiamo al pack a punch Ora non è che c'è da fare Speed assurdo no No ok Se vogliamo Potremmo prendere attacco Del drago Però non vedo Non credo sia il caso Di tentare quella sopravvivenza Con solamente il quick revive Perché non è proprio Una bella cosa Ah sì comunque Mi è uscito il quick revive E quattro casse di numero Invece come gabble Insomma le vedete qua Le prime due sono mega Le altre invece sono Quelle classiche Già questo l'ho detto Nel primo episodio Credo spero che questo Sia già il secondo episodio Perché se no È veramente un casino Cioè Sto ripetendo le cose Sto ripetendo le cose più volte Spero insomma Tanto che sia altre cose Ma comunque E siamo al pack a punch Direi subito di potenziare Il PPSH 41 Proprio detto in inglese Shallow Perché comunque Il dingo Beh oltre a non essere Un'arma proprio Fortissimissima I colpi Ce li ho già Quindi sarebbe inutile Potenziare E Ma si dai Facciamo anche Le sfide del drago Cioè Tentiamo le sfide Dell'uovo del drago Per prendere L'abilità speciale Ovvero il guanto Di Siegfriedo Anche se la vedo Molto dura Con questi perk Cioè con questo perk Appunto Il quick revive Oddio Effettivamente Se tipo uno completa La terza sfida Ti dà un perk random Però Non sarebbe ammesso In questa challenge Visto che comunque I perk che puoi prendere Sono Cioè È questo qua Cioè solamente il quick Insomma quello che ti piace Allora riprendiamo qua Che sennò Ci sbranano vivi Gli zombie E Direi di Startare subito il round No 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 Anzi no Prima ci facciamo una gabolina Perché Ne ho fatta solo una In nove round Quindi Vediamo un po' cosa ci dà Eccola lì Scivolata l'Italia Attenzione Eh Attivazione automatica Scivolando Provochi due esplosioni Letali Scivolando Vi direi di spiegarne subito una E mi ha dato il fusibile Olè Eh Ah due ne provo Ok Quando fai la scivolata Due esplosioni letali Quindi non una ma due Bene E io non vorrei tentare Nel gruppo di zombie A fai una scivolata letale Perché probabilmente La letalità Me la ritroverei io Nel morire In una maniera Abbastanza Brutta Quindi Magari evitiamo di farlo Quando ci sono Più di Due zombie Magari Forse non è il caso Sal di fare ste robe Visto che comunque Era la prima volta Tra l'altro che provavo Questa gabblegum E infatti c'è no Due gabblegum A parte questa Insomma Cioè con questa E vabbè Comunque Vediamo Quindi scivolate Ci avete scivolate Quindi anche sul piano Non c'è bisogno di fare Scivolate tipo Con salti O cose varie Ecco arriva il draghetto Chiaramente Vabbè A parte che cambio Round Quindi scialla Si possono fare anche Scivolate Quindi Se faccio Scivolate Per sbaglio Sprego Questa gabblegum E vabbè Se non ho 6 di attivazioni Ah belli Droni Belli Ma hanno detto Che sono veramente belli Però c'è l'arma potenziata E quindi Sciallo Volendo potrei già chiamare Il draghetto Tipo lo lascio lì Però Non so se dopo Madonna Si qua Madonna Ehi la Aspetta eh Ho sbagliato Mi sa Sprecato una cosa Almeno Ah vabbè Col ppsh Vanno giù facilmente Dai Si Si Eccolo lì Te sei l'ultimo No Non era l'ultimo Tra l'altro Quelli Dei round Successivi Provocano anche Cioè creano tipo Degli zombie elettrici Che vi stuprano male Il che non è tanto Bello Devo dire Ok Munizioni Thank you so much E andiamo avanti Andiamo avanti Con il dingo Intanto Livello 33 Decimo prestigio Al 35 Completato Andrò A livello Master prestigio Vediamo se ci riesco In questa partita Anche se ne dubita Altamente Perché comunque Fare tutti questi livelli Con solamente Tutti questi punti Esperienza Anzi mi correggo Con il quick revive Beh Non dico sia impossibile Però quasi Beh la zona dove giro Io di solito E qui O al double tap Al double tap In cooperativa Qui mi trovo Un po' meglio Per girarci In singola Anche se Proprio il top Estremo Sarebbe girare Tipo Al bunker Però ancora La tattica Del bunker Non l'ho ben affinata Quindi non vorrei fare Troppi fail E andiamo a girare Oh Dopi punti Perfetto Quindi direi di girare Qui tranquillamente Non vado ad accoltellare Gli zombie Anzi Andiamo a capire Perché se no Capite bene Che si rischia Anche se c'è Ist Va bene Accoltelliamo giusto uno Cosa mi ha dato Ah Pumbo Eh